Arriviamo da questa stagione con due promozioni, dalla B siamo passati alla 2, l'anno scorso dalla 2 siamo passati alla 1, perdendo una sola partita e non vediamo l'ora di fare questo campionato. La squadra è giovane, con tre elementi esperti e l'obiettivo nostro sarà quello di migliorare giorno dopo giorno e avere sempre grande entusiasmo nel lavoro. Le ragazze Oro Granata si sono radunate al Tagliercio per dare il via alla nuova stagione, reduci dalla conquista di due promozioni consecutive che hanno riportato la squadra femminile dell'Umana Reier in Serie A, proprio come quella maschile. Una squadra formata da senior. Mi aspetto di poter dare la mia esperienza, di mettere a disposizione della squadra la mia esperienza, di aiutare le giovani a crescere, a diventare protagoniste in questo campionato. Mi aspetto di crescere ogni giorno, di vederle anche crescere e poi ovviamente di vincere il più possibile. Spero che un po' di esperienza per aiutare un po' a crescere anche i giovani giocatrici che sono qua parecchie, allora penso che quello poteva essere bello se riesco a fare. Ma anche da giovani elementi. È una grandissima opportunità per far vedere che comunque possiamo dare un contributo alla squadra e sicuramente ci metteremo il massimo della grinta e dell'entusiasmo, così come abbiamo fatto anche negli anni precedenti. Dai, venite a vedere un Manarer.